Vediamo un filmino. Allora, cosa ci diciamo? Allora, adesso loro vanno al Camaron a prendere la camera, noi andiamo in centro, andiamo a vedere il mercatino, dopo turniamo al Camaron e ci diamo al Camaron. Per divertirci tutti con te. Con le bierze. Ok. E là ci sono tutti gli altri amici che andranno con noi. Ok. Stiamo a riprendere.